Ecco il primo gol, batte un calcio d'angolo Causio, la palla subisce una serie di rimpalli nell'area di rigore, l'ultimo dei quali smarca Bettiga che segna il primo gol. Nella ripresa batte ancora un calcio d'angolo Causio e sulla corta respinta il secondo gol di Tardelli. Poi scende Gentile, il cross e tiro al volo di Cabrini ed è il 3 a 0. Siamo al diciassettesimo, al trentaquattresimo il gol del Catanzaro segnato di prepotenza da Zanini, Catanzaro 1 Juventus 3.